Bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale di clan RGR, scusate la mia assenza di circa un mese ma ho avuto problemi sia con la scuola che con la ragazza o con qualunque cosa di questo mondo Vi ringrazio Dynamik per aver portato avanti questo canale e scusatemi ancora di tutto ma ho avuto davvero molti problemi Perché come ha detto Dynamik e Buzzi non è una scuola molto semplice quindi già io non sono un secchione a studiare Oggi siamo qui con un nuovo video, ovvero la mia prima unboxing sul canale di clan RGR Mi è arrivato questo qui, non mi è arrivato oggi, nemmeno in questi giorni, ma è arrivato un po' un mese fa più o meno Ho visto un po' come utilizzarlo ma mi sente soltanto l'audio e il video no, quindi non so come farlo funzionare E quindi non ve lo mostrerò, dovrò vederlo insomma Se il video verrà male sono cazzi vostri, la mia prima unboxing, quindi apriamo subito la nostra cazzo di cosa Allora, con una mano sai non è sempre che non sono dio Allora, aprendo questo schifo qua, ovvero Hitec USB Video Audio Grabber, ovvero Easy Capture Allora, all'interno, visto tanto già era già aperto, quindi ci sarà un disco De merda Comunque andrà installato il programma sul computer Call of Duty Ghost Ghost Nuovo DLC Onsloat Che io ho E insomma va installato per Sul PC E nulla Sì, infatti sarà questa applicazione, vediamo se la riesco a farla vedere Sarà questo qua Blades Video Questo qua, insomma Io però mi sono scaricato un'altra applicazione, ovvero questa Non lo metto a fuoco Vabbè, a me non è importante comunque Non so come farlo funzionare, quindi vabbè, lasciamo a perdere Insomma installate tutto, tanto perché c'è scritto tutto in questo manuale di istruzioni Vedete, non si legge tanto sta macchina fotografica Per cazzo Guarda che quanto si vede male Oddio, aspetta, non si vede mai tanta luce E luce sia Oddio, qua si è giuda E allora, continuiamo, scusate Allora Apriamo Troviamo questo nostro esicattivo Porco giuda Allora Allora Partiamo Ci saranno 4 cavi Questo qui è 6 video Che non serve una beata minchia Ma La funzione invece Ha soprattutto una funzione Quello di far rinculare la gente Su per il culo Poi Sarà l'USB Che andrà attaccata qua al computer Scusate Non so inquadrare nemmeno bene Aspetta, non teniamoci Dov'è Oh cazzo E si accenderà la lucina Vedete questa è la mia postazione Postazione conquistata La tv Le cuffie PS3 E computer Non c'è nemmeno tanto posto Questo vabbè Allora Innanzitutto Cazzo ho detto Innanzitutto Eh si Buona ciao Allora Dobbiamo Prendere Praticamente So che è un vecchio Per fare sto video Però Ragazzi Perché faccio C'è gente come me Che non sa Come vanno messi Gli oggetti Non so nemmeno se lo farò giusto Sto video Quindi Per favore Se non volete Se vi piace questo video Mettete un mi piace Se non vi piace Mettete un mi piace Ma non Non rompete i coglioni Nei commenti Grazie E allora Continuiamo Allora Apriamo questo filo Insomma Io utilizzo L'HDMI Per visualizzarlo La tv Insomma Il video E Una favola Guarda Poi Giocare a ghost Proprio E' stupendo Poi c'è anche una grafia Stupenda Stupenda Da pro Insomma Attacchiamo il cavo dietro Scart Non si vedrà Una sega Con una mano Ora si misa Nulla di nuovo il video Perché non ho fatto uno precedente Ma Porco Giuda Ora Scusate un attimo Allora Mettiamo un attimo il video qua Vediamo Ok Allora Piazzate di merda Muovite Lol Ok Ah la Wii Mi raccomando Proprio Non buttatela mai Allora Prendiamo Ci sono questi tre cavetti Di merda Allora Dovete attaccarli A questi qui Oh cazzo Con una mano Allora Allora Il primo Allora Madonna di dio Però raga Possibile Mettiamo questo Giallo con giallo Rosso con rosso Per l'entrata Audio Video E tutto E quello bianco Bianco Questo Ve lo ficcate In il culo Dopodiché Sarà attaccato Alla PS3 Allora E come ho già detto Prenderete il cd Installerete quel cazzo Di programma Se vi riuscire a usarlo Bene Se no Scaricate Un led Video studio Che vi lascerò Nel In descrizione E dopo Dopodiché Mh Nulla Dovrebbe essere Tutto attaccato Dovete Ora Dovreste Far riconoscere Il dispositivo Nel Nel Il programma Insomma Per farlo riconoscere Dovrebbe andare bene così Non so se l'HDMI Va tolto Perché io Sinceramente Non l'ho capito bene Sta cosa Comunque So che è un video Di non molta qualità Ma spero Vi possa dare qualche aiuto Cioè Spero Poi Casomai Come installarlo Ve lo farò In seguito Ma non penso Vi interessi Quindi Insomma Io tengo l'HDMI Questo è il cavo LAN Per la connessione Perché mi sceglio Il router lontano Quindi Adesso con questo avvo qui Che passa attraverso La corrente Se lo vedete Questo qui E mi va a besia La connection Poi l'HDMI Per la corrente E lo SCART Che Va attaccato qui Che passa attraverso Il computer Il programma E tutto Quindi questo Non mettiamo via Ecco mi è caduto il CD Porco Giuda Oddio il Cristo Ecco noi Nulla Perché la Wii è spenta Non si sa Vabbè E Nulla Che devo dire poi Penso Niente altro Spero E Questo video Vi abbia aiutato Almeno come mettere Insomma Un unboxing Più o meno Dai Diciamo Che poi Non Diciamo Un unboxing Vai Diciamo così Proprio Diciamo Diciamo E Nulla Spero Questo video Vi sia piaciuto Mettete un bel mi piace Commentate per favore Senza dire Non rompere i coglioni Perché Poi nei video Di risposta Cioè Non nei video Nei video In descrizione Nei commenti Cioè È dynamic E li scrive Quindi non sono io Ah Il mio nuovo nome Ha detto ormai De Sniper Mettiamoci Sento non so che nome Mettermi Ci penserò Quindi Se avete qualcosa da dire Scrivetemelo nei commenti Io cercherò di risolverlo So che non tanto Non sarà di molto aiuto Ma spero almeno Che Vi abbiamo poi Ne trattenuto Almeno Guardate Bella schermata Portatele Ah Preferibilmente Usare questo Cosa qua Non mi viene mai il nome Insomma Vedi si capisce Su un Su un PC portate Perché da lontano Cioè Non ci arriva Cioè Il filo Non è molto lungo Come tutti sanno Quindi Vabbè Nulla Spero che questo Vi sia piaciuto Vi abbia intrattenuto Mettete un mi piace Commentate Ci vediamo alla prossima Bella Ah mi raccomando Gesù A me mi piace Anche tu Mi raccomando Che è morto Per i nostri peccati L'unica Siamo Gli unici gioie Della PS3 che ho Cioè Raga Raga Proprio Bomber La Wii CD Dragonbo Bella Mi sono perso Anche Dragonbo Cioè Profumo No dai Vabbè dai Mettete un bel mi piace Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Grazie.